Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli si è deteriorato una volta che le due donne hanno lasciato la casa del grande fratello. Lo dimostra la lettera che l'ex showgirl ha deciso di indirizzare alla compagna di gioco attraverso le pagine del settimanale di più. Un gesto plateale, come lei stessa riconosce, pensato proprio allo scopo di rendere pubblico il suo pensiero a proposito della collega. Beatrice che delusione, scrive Tagli, non posso iniziare in un altro modo questa lettera, sicuramente avrei potuto scriverti un messaggio oppure chiamarti in privato, ma ho deciso di mostrare al pubblico ciò che penso di te. Ho preferito quindi scegliere la platealità di una lettera pubblica, nel rispetto di tutte le persone che si sarebbero aspettate un proseguimento del nostro rapporto, della nostra amicizia anche fuori dalla casa, e questo, per coerenza, visto che tu stessa ne avevi parlato tanto. Ma ormai l'ho capito, tu sei tutto e il contrario di tutto. Lo hai abbondantemente dimostrato, dato che tutti ti hanno visto tornare sui tuoi passi anche con chi ti ha offeso e tradito. Mi riferisco ovviamente a Giuseppe Garibaldi. Secondo Tagli, il rapporto tra Beatrice e Garibaldi, che i due non hanno mai esibito sui social, limitandosi a vivere in privato il loro legame, servirebbe a Luzi a conquistare il favore dei fan che fin dall'inizio si sono dimostrati entusiasti di fronte alla possibilità di una storia d'amore tra i due. Amici e amiche se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su, diteci cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.